eccoci qua buongiorno buongiorno oggi è mercoledì mercoledì 20 maggio ore 13 e 30 buongiorno a tutti come state come procede qui la foresta amazzonica della mia barba praticamente diventa sempre più folta quindi come vedete la natura fa da sé la natura indisturbata cresce 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 allora per tutti coloro che fossero interessati la diretta avendo il computer a disposizione in quanto la regia è al lavoro la diretta è disponibile anche su youtube quindi se andate su youtube se chiunque volesse usufruirne può trovare la diretta ci vediamo anche più grandi direttamente da youtube ok anzi colgo l'occasione per far diventare lo schermo ancora più grande spettacolare allora piano piano vedo che qualcuno con i tempi non riesce perché siamo sempre di meno va bene non è problema benvenuti youtube qui sopra c'è instagram qui sotto c'è youtube dunque vi comunico innanzitutto va beh come già sappiamo già l'ho detto le lezioni in palestra le palestre riaprono il 25 maggio lunedì 25 maggio e a breve vi spiegherò anche com'è la modalità di ritorno in palestra ciò nonostante garanti garantisco le lezioni in diretta instagram e registrandole poi su youtube e quindi io ci sono questo progetto va avanti be your own super hero sia di pilates sia evolutionary fit il nostro approccio all'attività fisica alla vita prosegue ok quindi ci sono anche lo stand dei panni fa parte del big your own super hero grazie a voi ragazzi vi comunico che siamo quasi arrivati all'obiettivo 4000 ore di visualizzazione pubbliche mancano solo 370 ore quindi grandi bravi un grande applauso a tutti quanti voi allora vi comunico che per la settimana prossima gentilmente procuratevi anche acquistandolo da decathlon un foam roller ok che è il cilindro sul quale ci si sdraia o comunque si utilizza per fare altri esercizi dovrebbe essere lungo circa 90 cm è quello blu o giallo celeste insomma e poi il pilates ring ok così facciamo esercizi anche di diciamo con un pochino più di difficoltà perché qualcuno me lo richiede ma come mai allora vi ricordo il martedì e il giovedì sono esercizi di base il lunedì mercoledì e venerdì sono esercizi un pochino più di forza detto ciò ciancia le bande o banda le ciance come si usa a dire e iniziamo la lezione va bene ragazzi quindi io mi metto in piedi e cercherò di essere appiccicato alla parete perché il computer non riesce a prendermi figura intera sono proprio al limite allora invece che partire da sdraiati partiamo da in piedi ok ragazzi quindi gambe alla larghezza delle anche ossia i nostri talloni devono essere allineati con gli ischi cominciamo a percepire il nostro corpo quindi talloni in linea con gli ischi le gambe sono la larghezza delle nostre anche quindi non larghe quanto il bacino leggermente più strette l'alluce il mignolo e il tallone del piede destra del piede sinistro premono bene sul pavimento come fossero tre ventose tre a sinistra e tre a destra e bilanciamo leggermente di più il peso sulla parte anteriore dei nostri piedi quindi il 60 per cento del peso del nostro corpo deve essere spostato leggermente più sulla parte anteriore dei piedi benissimo ora i glutei manteniamoli rilassati le ginocchia ragazzi non sono tese ma sono leggermente più rilassate tanto da mantenere la gamba distesa e non tesa c'è differenza ora le braccia le mettiamo lungo i fianchi e il dito medio quello centrale che normalmente utilizziamo per fare dei gestacci ok lo so che voi non li fate lo teniamo lungo il femore così ci dà la direzione del femore ora facciamo scivolare le scapole lungo la schiena come se le volessimo infilare nelle tasche posteriori dei pantaloni in questo modo le nostre spalle si allontano dalle orecchie quindi diciamo spalle lontane dalle orecchie dalla parte del petto diciamo clavicole sorridenti in modo tale da andare ad allontanare il più possibile le spalle tra loro come se le volessimo sfilare le nostre clavicole lateralmente dalle spalle quindi immaginate la bocca dello smile la faccina che sorride allontaniamo le orecchie dalle spalle quindi il nostro collo diventa più lungo e la nuca la nuca ragazzi la nuca lontana dal coccige quindi andiamo ad allontanare la nuca dal coccige in questo modo la nostra colonna sarà lunga 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 dunque l'apice del capo spinge verso il soffitto come se fosse attaccata a un filo ok e questo filo tira sul nostro capo e di conseguenza tutta quanta la colonna quindi ricapitolando con l'alluce migno nel tallone premo contro il pavimento e al centro delle piante dei piedi mantengo un piccolo spazio risucchiando appunto il centro della piante del piede verso il soffitto glutei rilassati le costole un pochino più vicine al bacino dalla parte della pancia quindi le coste chiuse scapole verso le tasche posteriore dei pantaloni spalle lontane dalle orecchie spalle lontane tra loro orecchie lontane dalle spalle nuova lontana dal coccige naso mento sterno ombelico e pube sulla stessa linea ora in aspiro tenendo l'ombelico leggermente premuto verso la colonna dalla pancia verso le scapole sotto le ascelle su fino in cima al capo e spiro rilasso la cuore rilasso il petto lo sterno scivola verso il pube le costole verso il bacino la pancia si scava si svuota e risucchio l'ombelico verso la nuca come se volessimo allacciare la zip di un paio di pantaloni stretti in vita ok attivando il pavimento pelvico stringendo l'ano quindi e trattenendo la pipì di nuovo in aspiro dalla pancia verso le scapole sotto le ascelle su fino in cima al capo sentite la colonna che si allunga e spiro lo sterno scivola verso il pube le costole verso il bacino la pancia si scava si svuota risucchio l'ombelico verso la nuca attivando il pavimento pelvico quindi stringendo l'ano e trattenendo la pipì molto bene da qua andiamo a fare archi delle braccia da in piedi così intanto andiamo a sciogliere a mobilizzare il nostro cingolo scapolo medale dunque mantenendo le braccia a lungo i fianchi ora inaspirando vado indietro con le braccia quindi vado verso l'alto facendo scivolare le scapole verso i glutei verso le tasche posteriori dei pantaloni e fuori l'aria riporto le braccia lungo i fianchi ok spingendo un pochino verso dietro e su prendo l'aria nel frattempo la colonna rimane lunga 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 e giù fuori l'aria e su prendo e giù fuori quando spingo giù spingo verso il pavimento e verso la parete dietro di noi come se volessimo spingere due molle appunto contro la parete e su prendo e giù fuori e su prendo e giù fuori ora aumentiamo un pochino la difficoltà e che cosa vado a fare vado a lavorare sul balance sull'equilibrio quindi se ve la sentite seguite me andiamo prendo l'aria espirando vado a sollevare la gamba sinistra flessa a 90 gradi sopra il bacino la colonna è allineata quindi rimane neutro e da qui inspirando vado su con le braccia e giù fuori l'aria su prendo l'aria e giù fuori l'aria manteniamo la colonna ben allineata e su prendo e giù fuori 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 da qua prendo l'aria espirando appoggio il piede sinistra a terra ora inaspiro espirando sollevo la gamba destra flessa a 90 gradi sopra il bacino e andiamo a fare lo stesso identico esercizio quindi su prendo l'aria e giù fuori l'aria su prendo e giù fuori su prendo giù fuori su prendo giù fuori su prendo giù fuori su prendo giù fuori prendo l'aria espirando appoggio anche il piede destro molto bene ora prendo l'aria nuovamente espirando fletto la gamba sinistra all'altezza del fianco ok quindi ginocchio davanti all'anca metto le mani sotto la coscia sinistra spalle lontane dalle orecchie nuca lontana dal coccige l'alluce il mignolo il tallone del piede destro spingono contro il palimento da qua inaspiro espirando vado a stendere la gamba sinistra verso avanti prendo l'aria refletto e fuori l'aria estendo prendo l'aria refletto fuori l'aria estendo prendo e fuori prendo teniamo il piede a punta e fuori prendo e fuori prendo e fuori ancora due volte prendo e fuori prendo e fuori prendo l'aria espirando giù la gamba sinistra e ora prendo l'aria espirando fletto la gamba destra a 90 gradi ginocchio davanti l'anca ginocchio destro davanti l'anca destra spalle lontane dalle orecchie scapole verso le tasche posteriori dei pantaloni piede destro a punta nuca lontana dal coccige e da qui prendo l'aria espirando stendo la gamba destra prendo l'aria refletto e fuori l'aria estendo prendo l'aria refletto fuori l'aria estendo numero nuca lontana dal coccige eh? fuori l'aria estendo prendo la refletto fuori l'aria estendo prendo e fuori 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 Prendo l'aria e giù fuori l'aria Molto bene ragazzi Da qua andiamo a fare Quest'altro esercizio Ok quindi andiamo ad ammorbidire Andiamo a mobilizzare un pochino la nostra colonna E prendo l'aria Espirando scavo l'addome Risucchio l'ombelico verso la nuca Sguardo verso l'ombelico Il peso è leggermente più spostato sulla parte anteriore dei piedi E scendo, 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 scendo Mi fermo giù Prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle Ed espirando Cochige che scivola verso i talloni E risucchio l'ombelico verso la nuca E vado a srotolare lentamente Una vertebra dopo l'altra Per ultimo il capo Vado su, prendo l'aria Spingo sui metatarsi Quindi sollevo i talloni E giù fuori l'aria Giù, 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 giù Prendo l'aria E fuori l'aria e srotolo E su, prendo l'aria Spingo sui metatarsi Sguardo verso l'angoletto Tra la parete e il soffitto E giù, fuori l'aria Giù, 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 giù Prendo l'aria E fuori l'aria e srotolo E ancora Su, prendo l'aria E giù, fuori l'aria Giù, 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 giù Prendo l'aria E fuori l'aria e srotolo Su, prendo l'aria E giù, fuori l'aria Giù, giù, giù Ok, da qua ragazzi Mi faccio un pochino più indietro Così proviamo a vedere tutto quanto L'esercizio Allora, prendo l'aria E ispirando Con le mani Cammino, 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 cammino Fino a raggiungere la posizione Di plank Ok? Spalle lontane dalle orecchie Nuova lontana dal coccige Coccige leggermente Verso i talloni Da qua Prendo l'aria E ispirando Vado in una posizione A burrovesciata Spingo sul sederino Sguardo verso I nostri piedi Prendo l'aria E ispirando Senza tondolare col bacino Cammino indietro con le mani E riportando Li verso i piedi Prendo l'aria E ispirando Lentamente srotolo Una vertebra dopo l'altra Per ultimo Il cabo E di nuovo Vado sui metatarsi Sulle teste metatarsali Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Giù, giù Giù, giù, giù Giù Da qua Prendo l'aria E ispirando Cammino 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 Con le mani Ok? Senza tondolare con il bacino Le mani sono esattamente sotto le spalle Da qui Che cosa andiamo a fare? Pieghiamo il braccio Destro Appoggiamo l'avambraccio destro Spingendo con l'avambraccio destro Pieghiamo il braccio sinistro Ok? Da qui Prendo l'aria E ispirando Spingo con l'avambraccio destro E vado ad appoggiare la mano sinistra Spingo con la mano sinistra E vado ad appoggiare la mano destra Prendo l'aria E ispirando Posizione AV Rovesciata Prendo l'aria E ispirando Cammino, cammino Con le mani verso i piedi Prendo l'aria E fuori l'aria Giù, 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 giù Da qua Cammino, cammino, cammino Raggiungendo la posizione per fare i piegamenti Mi sistemo così Poi, dovremo mantenere i gomiti Vicini al tronco E fuori l'aria Stendo Dovete farlo così Se non avete forza A sufficienza Per farlo col corpo Proteso all'indietro Quindi Giù, prendo l'aria E fuori l'aria Se anche così vi risulta faticoso Spostate il peso un pochino più indietro Quindi Il sedele va un pochino più verso i nostri talloni E andiamo a piegare in questo modo le braccia Così da spostare più peso sulla parte posteriore del corpo Invece che sulla parte anteriore Dai Ancora Andiamo a fare sei piegamenti sulle braccia Ok ragazzi? E ragazze ovviamente Dunque Da qua Colonna lineata Nuca lontana dal cocci Gespale lontana da le orecchie Spingo anche con le teste metatarsali Contro il pavimento E da qui Giù Inspiro E su Fuori l'aria Giù Prendo l'aria E Fuori l'aria Scavo l'addome Di succhio lombelico verso la nuca Giù Prendo E su Fuori Ne mancano tre Giù Prendo E su Fuori Ancora due Giù Prendo E su Fuori Manca l'ultimo Giù Prendo E su Fuori E giù Andiamo nella posizione Del fanciullo Benissimo Ok ragazzi Bene 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 Allora Adesso Direi che andiamo a fare Questo esercizio Quindi Partiamo subito Con Rollover Scusate I capelli Vanno un po' Dove vogliono Partiamo subito con Rollover Ok Quindi Schiena a terra Attenzione Chi ha difficoltà Con la zona lombare Soprattutto chi ha Ernia Lombare Mi raccomando Molta attenzione Sarebbe sconsigliato A vostro Come posso dire Sotto la vostra responsabilità Quindi Da qua Braccia Lungo I fianchi Spalle Lontane Dalle orecchie Nuca Lontana Dalla Coccige Ora Inaspiro Espirando Fletto Una gamba Dopo l'altra 90 gradi Sotto il bacino Ok Manteniamo Lo spazietto Sotto il tratto Lombare Molto 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 Quasi Inesistente Ora Da qua Inaspiro Stendo le gambe Verso il soffitto Espirando Che cosa devo fare Scavo l'addome Risucchio l'ombelico Verso la nuca Attivo il pavimento Reddico Stringendo l'ano E trattenendo la pipì E vado su In appoggio Tra le scapole Sto spingendo Anche con le braccia Contro il pavimento La nuca E il collo Sono rilassati Da qua Prendo l'aria Facendo una buco Le gambe Espirando Lentamente Mantenendo le spalle Dalle orecchie Sosratolo la colonna Come appoggio Rosso sangue Faccio un cerchio Con le gambe E su Fuori l'aria E faccio una bu Prendendo l'aria E fuori l'aria Sosratolo Faccio un cerchio Prendo l'aria E su Fuori l'aria Faccio una bu Prendo l'aria E giù l'aria E giù l'aria E giù l'aria Cerchio prendo l'aria E su Fuori Faccio una bu Prendo l'aria E giù l'aria Cerchio prendo l'aria E su Fuori V V prendo l'aria E giù Fuori Piano 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 Ragazzi Più lo fate lentamente Maggiore controllo Maggiore intensità Dell'esercizio Più lo fate velocemente E più pezzi Vi perdete per strada Ok Per sbrigarvi Perché? Perché sopportare E tollerare lo sforzo È faticoso E su Prendo E giù E prendo E su Ci fermiamo su Mettiamo le mani Dietro il bacino Ok E da qua Andiamo A sporbiciare Uno Prendo l'aria Fuori Prendo Quando le gambe Stanno su Fuori Prendo Fuori Io non sono appoggiato Sul collo ragazzi Sono appoggiato Sulla zona Tra le scapole Vedete che riesco A girare il capo? Quindi Appoggiati Sulla zona Tra le scapole E fuori 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 E ancora Quattro Tre Due Uno Mi fermo Prendo l'aria Porto le braccia Lungo i fianchi Fuori l'aria Srotolo lentamente Una vertebra Dopo l'altra Piego le gambe Prendo l'aria Espirando Giù la gamba Destra E giù la gamba Sinistra Molto bene Ora Ci siamo Nel frattempo Massaggiamo un pochino Scusate Mi sistema C'è troppo poco spazio Massaggiamo un pochino La nostra zona lombare Facendo sempre un esercizio Impegnativo Per quanto riguarda Il nostro core Quindi Controllate che Dietro di voi Il tappetino sia Sgombro Ok? O forse torno La battuta Scusate Sarà la fame A quest'ora Mettiamo Le mani sulle tibie Seduti sopra gli ischi Da qui Prendo l'aria Espirando Stendo la gamba Da dietro Le gambe Che sono leggermente divarecate E da qua Vado dietro Inspirando E avanti Fuori l'aria Ragazzi Controllo Dietro Prendo Avanti Fuori Dietro Prendo Avanti Fuori Dietro Prendo Avanti Fuori Dietro Prendo Avanti Fuori E ancora Prendo Fuori Controllo Prendo E fuori E prendo Nunga lontana dal coccice Fuori E prendo E fuori Mi fermo Braccia parallelo alle gambe Prendo l'aria Espirando Giù 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 Ok Molto bene Scusate Non c'è Sono troppo lungo Sapete Un metro del 74 Di altezza Tantì Lunghissimo Proprio Da qua Allora Andiamo a fare Questo esercizio Dunque Braccia Lungo I fianchi Il corpo Ben appoggiato A terra Ora Inaspiro Espirando Sollevo La nuve Le spalle Le mani Vanno verso i talloni Al tempo stesso Vado a sollevare Le gambe Da terra Ok Questo è Vedete Gambe Braccia Parallele tra loro Da qui Prendo l'aria Mantenendo la colonna Allineata E fuori l'aria Piano 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 Le gambe scendono Nel frattempo La colonna si sdrotola Le mani stanno sempre Spingendo verso i piedi E giù E ancora Prendo l'aria Tra le scapole Sotto le ascelle E fuori l'aria Sollevo la nuca E le spalle Su 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 Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Risucchio l'ombelico Verso la nuca Nuca lontana dal cocci Scendo 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 Prendo l'aria E su Fuori l'aria Su 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 Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Prendo l'aria E su Fuori l'aria Sollevo la nuca e le spalle Risucchio l'ombelico Verso la nuca Attivo il pavimento Pervico Su Su Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Ancora due volte Prendo l'aria E su Fuori l'aria Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Ultima volta ragazzi Prendo l'aria E su Fuori l'aria Prendo l'aria Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Molto bene Ci siamo Ora Dunque Sto pensando Di Andiamo a fare Tergi cristalli Side to side Proviamo un attimino In questo modo Vediamo se Riesco a farvelo Vedere bene Allora Forse così Viene Vediamo un po' Perfetto Ci provo ragazzi Da qua Braccia A croce Il corpo Ben poggiato a terra Spalle lontane Dalle orecchie Nuca lontana Dal coccige Manteniamo quel piccolo spazietto sotto il tratto lombare Le gambe sono piegate Da qua Prendo l'aria E ispirando Fletto una gamba dopo l'altra A 90 gradi Sopra il bacino Ok? Ora Inaspirando Ruoto Verso Destra E il fianco sinistro Deve andare più avanti Del fianco destro Mantenendo le spalle Ben poggiate a terra E ispirando Scavo l'addome Risucchio l'ombelico Verso la nuca Stringo l'ano Trattengo la pipì Appoggio prima Le costole di destra Poi la colonna E per ultimo Le costole di sinistra Ora Inaspirando Ruoto verso sinistra E L'anca destra Deve andare più avanti Dell'anca sinistra Mantengo la scavola Destra Appoggiata bene a terra Ispirando Scavo l'addome Risucchio l'ombelico Verso la nuca Attivo il pavimento pelvico Stringendo l'ano Trattenendo la pipì Appoggerò prima Le costole di sinistra Poi la colonna Per ultimo Le costole di destra Ok E ora Di nuovo Inaspiro Ruotando verso Sinistra Verso destra Ora Ispirando Vado a stendere le gambe Verso Destra Senza crollare a terra Inaspiro Piego E fuori l'aria Torno E ruoto Verso sinistra Inaspirando Fuori l'aria Stendo le gambe Verso sinistra Senza crollare a terra Inaspiro Piego E fuori l'aria Torno Ok E ancora Inaspiro a destra Fuori l'aria Stendo Prendo l'aria Fletto Fuori l'aria Torno Inaspiro a sinistra Fuori l'aria Stendo Prendo l'aria Fletto Fuori l'aria Torno Ora Proviamo con le gambe Completamente distese Diventa ancora più Difficile Ok E da qua Inaspirando Ruoto verso Destra E il piede Il piede sinistro Cerca di andare più avanti Del destro E espirando Fuori E tre E fuori E due E fuori E uno Fuori Prendo l'aria E espirando Giù la gamba destra E giù la gamba sinistra Ok Scusate la proiezione Un po' strana Ma era un modo Per farvi capire bene L'esercizio Ok Ora Andiamo A Lavorare In questo modo Ci mettiamo In quadrupedia Bene Mani sotto le spalle Ginocchia Sotto le anche Ok La parte della mano Che spinge di più Contro il pavimento È la parte esterna Cioè dovete proprio spingere Se io spingo Contro il pavimento Con la parte esterna Della mano Attivo tutta questa parte Ok Tutti questi muscoli E dobbiamo sentire Questo Non ho capito Mi dispiace Scusate ma C'è il signor Google Che si intromette sempre Questo muscolo qua Quando spingete Che si attiva Lo potete toccare Con le mani Qui sotto la scella Qui Questo Spingo E si attiva Sentite come un ventaglio Che entra in funzione Mi raccomando È fondamentale Quindi Da qua Allora Ginocchia sotto le Anche Mani sotto le spalle Sguardo dalle mani L'altezza Delle nostre Unghie Ok Coccige leggermente Rotato verso i talloni La zona tra le scapole Leggermente Sollevata Tanto da arrotondarla Nuga Nuga all'altezza Del coccige E lontano Dal coccige Da qua Prendo l'aria E espirando Stendo la gamba destra Stendo la gamba sinistra Ci sbilanciamo Leggermente Più avanti Come se volessimo Incornare La parete Avanti a noi E da qua Inspiro Espirando Spingo di più Sul piede Sinistro Contro il pavimento E vado a sollevare La gamba destra Scavando l'addome E risocchiando L'ombelico Verso la nuca Giù Prendo l'aria E cambio Fuori l'aria Giù Prendo E su Fuori Giù Prendo Le gambe sono parallele Magari lo schermo Dà una proiezione Differente Ma le gambe Sono parallele Tra loro E la larghezza Delle anche E su Fuori Giù Prendo 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 Su Fuori Prendo E fuori Prendo Fuori Prendo Allungo e sollevo Mi raccomando Fuori Prendo E fuori Mi fermo Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Posizione Del fanciullo Ci giriamo E Andiamo a fare Leg pull front Allora Mettiamo Le mani Dietro le nostre spalle Ok La colonna Leggermente Inclinata Indietro Gambe parallele Tra loro Alla larghezza Delle anche Spalle Comunque Lontane Dalle orecchie Nuca Lontana Dal coccige Da qua Ragazzi Allora Mi raccomando La spinta Dei piedi È fondamentale Quindi spingo La luce Mignolo Contro il pavimento Sia del piede destro Che del piede sinistro Attivate bene I muscoli delle cosce Spingiamo bene Soprattutto Sulla parte esterna Della mano Ok Lato Mignolo Le dita delle mani O così O così Ma non indietro Ci siamo E da qua Inspiro E espirando Spingo Sulle mani Spingo sui piedi E vado a creare Una linea diagonale Sguardo verso l'ombelico Da qua Inaspiro E inaspirando Che faccio Spingo di più Sul piede sinistro Contro il pavimento Per sollevare la gamba destra Ok Quindi quando scendo Espiro Quindi Su prendo l'aria E giù fuori l'aria Su prendo Giù fuori Su prendo Giù fuori Prendo Fuori Prendo Fuori Prendo Fuori Prendo Fuori Prendo Prendo Fuori Prendo Fuori Prendo Fuori Prendo fuori, mi fermo prendo l'aria e giù fuori l'aria sentite i tricipiti quanto lavorano nonché gli addominali perché guardate se mantenete il sedere così è facile, dovete stare tesi, ok? non approssimativi il metodo Pilates richiede precisione è fondamentale quindi sfido chiunque a dire che anche un semplice esercizio possa essere troppo semplice perché se ci metto impegno, vedete che anche un singolo centimetro, un singolo millimetro fa la differenza ora pancia sotto e andiamo a fare su One Dive ok? quindi, forse disattivo i commenti per Instagram così si vede meglio eccoci qua allora pancia sotto andiamo a lavorare in estensione con la colonna mani ai lati del petto pube a terra coccige verso i talloni mi raccomando glutei rilassati il tratto lombare lo dovete percepire un pochino più piatto nuvo allontana dal coccige e all'altezza del coccige da qui mani ai lati del petto abbiamo detto i gomiti dritti verso il soffitto dobbiamo percepire ora inspiro tra le scapole sotto le ascelle espirando scavo l'addome risucchiando l'ombelico verso la nuca nel frattempo le scapole scivolano verso i glutei come se volessero scavare sotto le costole guardate questo movimento ok? questo movimento già automaticamente solleva lo sterno quindi scapole che scivolano verso i glutei gomiti verso i talloni spingo sulla parte esterna delle mani contro il pavimento e vado a sollevarmi fino a mantenere l'appoggio delle ultime costole a terra ok? lo sguardo è un pochino più avanti della fine del nostro tappetino quindi prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle tenendo l'ombelico risucchiato verso la nuca verso il soffitto e ritorno giù e i gomiti ritornano dritti verso il soffitto e nuovamente inaspiro tra le scapole e sotto le ascelle espirando scivolano le scapole verso i glutei gomiti verso i talloni spingo sulla parte esterna delle mani e vado a sollevarmi fino a mantenere l'appoggio delle anche a terra ok? nuca lontana dal coccige lo sguardo stavolta è verso la parete avanti a noi le spalle lontane da le orecchie questo vuol dire che sto spingendo costantemente con le mani contro il pavimento prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle e lentamente giù fuori l'aria e ancora prendo l'aria stavolta arriviamo su completamente quindi rimaniamo in appoggio con la parte di gamba di coscia poco prima del ginocchio un centimetro prima del ginocchio quindi prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle e ispirando scapole verso i glute i gommi diversi dall'uoni spingo sulla parte esterna delle mani e vado su 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 lo sguardo verso l'angoletto tra la parete e il soffitto ok? lo sterno spinge fuori da qua prendo l'aria tra le scapole sotto le ascelle e lentamente piego le braccia le spalle sempre lontane da le orecchie appoggio le cosce appoggio le anche l'ombre di cono perché è risucchiato verso la nuca appoggio le costure appoggio lo sterno appoggio il tetto ritorno i gommi diversi e fuori l'aria scapole verso i glute i gommi diversi i talloni e su prendo l'aria e giù fuori l'aria sguardo sempre verso l'angoletto della parete del soffitto rallento la discesa prendo l'aria e su fuori l'aria prendo l'aria e giù fuori l'aria prendo e fuori su 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 prendo e fuori e prendo l'aria e su fuori l'aria adesso io vado a fare swan dive 2 ragazzi quindi irrigidisco tutto quanto ulteriormente dai piedi verso il mio petto nonché tutti i muscoli dietro la colonna tutti attivi e da qui inspiro e espirando mi lascio i piedi in avanti prendo fuori prendo fuori prendo fuori ancora e mi fermo in posizione del fanciullo benissimo ok ci siamo bene bene da qua ragazzi mi siedo e vado a fare deso quindi seduti gambe un pochino più larghe delle spalle braccia lungo i fianchi seduti sopra gli ischi con le mani spostiamo un pochino indietro gli ischi mano sinistra dire indietro rischio di sinistra mano destra dire indietro rischio di destra ok l'apice del capo verso il soffitto spalle lontane dalle orecchie nuca lontana dal coccige colonna in neutro da qua inspiro e ispirando scavo con le mani sotto la sabbia come se le volessimo scusate scavo con le mani sotto la sabbia e porto le mani all'altezza delle spalle le mani leggermente più avanti rispetto alle nostre spalle da qua inaspiro tra le scapole sotto le ascelle ispirando ruoto dal basso verso l'alto della colonna verso sinistra le braccia si muovono come l'aco di una bussola il naso il mentolo lo sterno e l'ombelico si muovono solidari quindi insieme di conseguenza inaspiro ispirando ruoto dal basso verso l'alto della colonna verso sinistra e nel frattempo l'anca sinistra spinge avanti torno al centro prendo l'aria e il capo cresce verso il soffitto come un palloncino che vola e cambio fuori l'aria ruoto verso destra spingendolo anche a destra avanti sentite la scapola destra come scivola verso la scapola sinistra torno al centro prendo l'aria e cambio fuori l'aria ruoto verso sinistra torno al centro prendo l'aria e fuori l'aria ruoto verso destra ora andiamo a fare le so questo è spine twist quindi il movimento base è questo dopodiché alla rotazione quindi alla torsione aggiungiamo una flessione quindi inspiro espirando ruoto verso sinistra spingo il fianco sinistro verso avanti la mano destra con il mignolo va a segare la caviglia sinistra sguardo verso la mano sinistra torno prendo l'aria e cambio fuori l'aria ruoto verso destra col mignolo sinistro vado a segare la caviglia destra torno prendo l'aria e cambio fuori l'aria prendo l'aria e cambio fuori l'aria prendo e fuori 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 torno al centro prendo l'aria giù il braccio destro e giù il braccio sinistro capelli selvaggi proprio ok e non direte ne restaggeggio allora adesso andiamo sul fianco ok e ci mettiamo sul fianco destro dunque sappiate che tutti gli esercizi fatti sul fianco se andiamo a piegare quindi ad accorsare l'aria se pieghiamo la gamba diventano tutti più semplici ok ora io lo faccio con le gambe distese chi vuole lo faccia con la gamba piegata a 90 gradi ma il concetto è lo stesso allora andiamo prima a fare side band dunque mano sinistra scusate mano destra in prossimità della spalla destra leggermente più all'esterno le gambe sono quasi del tutto distese piede destro dietro piede sinistra avanti sono incastrati tallone sinistro sul collo del piede destro ok le anche l'anca sinistra la spingiamo verso avanti le spalle allineate le costole di destra verso sinistra e da qua braccio destro lungo il fianco prendo l'aria tra le scapole e sotto le ascelle espirando le costole vanno verso il bacino spingo sui piedi spingo sulla mano destra contro il pavimento e vado su ok da qua inspiro sguardo verso la mano destra e il bacino spinge un pochino più verso l'alto e fuori l'aria piano piano scendo ok dalla caviglia destra verso l'anca destra indico con la mano sinistra i piedi ok e su prendo l'aria e fuori l'aria su prendo e giù fuori su prendo e giù fuori su prendo giù fuori su prendo giù fuori su prendo giù fuori su prendo e giù fuori molto bene ora Cambiamo fianco E poi ritorniamo sul fianco destro Che fatica Dunque, abbiamo detto piede sinistro dietro Piede destro avanti Sono incastrati tra loro Mano sinistra in prossimità della spalla Braccio destro lungo il fianco Le gambe sono quasi completamente distese Spingiamo l'anca destra verso avanti Da qui Mi raccomando la mano sinistra colpastrelli E pollice e mignolo spingono contro il pavimento Corsore di sinistra Spostate verso destra Prendo l'aria E fuori l'aria Spingo e vengo su Da qua Prendo l'aria Guardo la mano sinistra Il bacino va un pochino più su Braccio destro che si allunga E giù fuori l'aria Vado appoggiare dalla caviglia sinistra Verso l'anca destra Vado a sfiorare il pavimento E su prendo l'aria E giù fuori l'aria Su prendo E giù fuori Su prendo E giù fuori Su prendo E giù fuori Su prendo Su prendo E giù fuori Molto bene Ora Ritorniamo sul fianco Destro E andiamo a fare Il side twist Dunque Rimettiamo i piedi Incastrati Ok? Quindi Piede destro dietro Piede sinistra avanti Il concetto è lo stesso Di prima Quindi il punto di partenza È come prima Da qua Prendo l'aria Ispirando Spingo con le mani Con la mano destra Con i piedi contro il pavimento E vado su Ok? Prendo l'aria Porto il braccio sinistro Verso il soffitto Sguardo verso la mano sinistra E ispirando Vado ad abbracciare una botte Con il braccio sinistro E la porto dietro Il mio tronco Ok? Sguardo verso la mano sinistra Torno su Prendo l'aria E fuori l'aria Su prendo l'aria E giù fuori Su prendo 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 E giù fuori Torno su Prendo l'aria E giù Ah! Sentite quanto la spalla Lavora? È bella impegnativa Cambio Dunque Da qua Andiamo a fare lo stesso esercizio Sul fianco sinistro Quindi Incazziamo i piedi Piede sinistro dietro Piede destra avanti Mano sinistra a terra Braccio destro lungo il fianco E da qua Prendo l'aria E su fuori l'aria Prendo l'aria Porto il braccio destro Verso il soffitto E ispirando Abbraccio Porto Prendo la botte Ok? Con il mio braccio destro La porto dietro il tronco E su prendo l'aria Sguardo verso la mano destra E giù fuori l'aria Su prendo l'aria E giù fuori l'aria Su prendo E giù fuori Su prendo E giù fuori Su prendo E giù fuori Su prendo Su prendo Su prendo Giù fuori Torno su prendo l'aria E giù fuori l'aria Ufff E andiamo ad allungare Ok? Quindi Partiamo dal lato destro Gamba destra avanti Gamba sinistra di lato Appoggiamo la mano sinistra a terra E andiamo A portare il braccio destro Verso sinistra Sguardo verso la mano sinistra Spingiamo il gluteo destro Contro il pavimento Ritorno E cambio Gamba sinistra davanti Gamba destra Di lato E da qui Mano destra a terra Inspiro Sotto la scena sinistra E fuori l'aria Vado a flettere il tronco La colonna Verso destra Spingiamo Il gluteo sinistro Contro il pavimento Ok E adesso Arriva il pello Dulcis in fundo Dunque Ci mettiamo In questa posizione E andiamo a fare Rollato Ok? Quindi Gambe parallele Tra loro E spingiamo Il corpo bene Contro il pavimento Da qua Vado indietro Con le braccia Inaspirando E tengo le costole Già ben attaccate A terra E ispirando Porto le braccia Avanti E con le mani Come se volessimo Premere due molle Contro la parete Avanti a noi Scavo l'addome Spingo le gambe Contro il pavimento Con prese le plante dei piedi Lo sterno Spinge indietro Come se volesse uscire Dietro la nostra schiena E vado avanti 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 Con le mani Cerco di andare Oltre le punte dei piedi Prendo l'aria Tra le scapole Sotto le ascelle E ispirando Srotolo lentamente Una vertebra Dopo l'altra Per ultimo Il capo Prendo l'aria E lentamente Giù Le gambe Le gambe Le schiaccio a terra Scavo l'addome Grande arco Grande arco Grande arco Grande arco Lo so che magari su Instagram Non si vedono le mani Che vanno verso i piedi Ma le mani vanno Oltre le punte dei piedi Ok Prendo l'aria Tra le scapole Sotto le ascelle E ispirando Srotolo la colonna Prendo l'aria E lentamente giù Scavo l'addome Le schiaccio l'ombelico Verso la nuca Attivo i muscoli Sotto le ascelle Giù 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 E ancora Prendo l'aria E fuori l'aria Su Su Grande arco Prendo l'aria E fuori l'aria Srotolo Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Ragazzi Vado a fare il neck pull Quindi Aumento la difficoltà dell'esercizio Chi vuole mi segua Da qua Gomiti leggermente sollevati Tanto ad osservarli con la coda dell'occhio Prendo l'aria tra le scapole Sotto le ascelle E ispirando Sollevano con le spalle Grande arco Grande 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 arco Ora Da qui Inspiro E stendo la colonna E ispirando Mi sbilancio indietro Fino a che riesca a mantenere La colonna ben allineata Prendo l'aria E giù Lentamente Fuori l'aria E Prendo l'aria E fuori l'aria Sollevo la mucca e le spalle Grande arco Scavo l'addome E risulto il lungo E dico verso la nuca Grande grande arco Ok Da qua Inspiro E stendo la colonna Nuca lontana dal coccige Spingo lo sterno in fuori Zeterino in fuori E ispirando Mi sbilancio indietro Fino a mantenere l'allineamento Tra la colonna Prendo l'aria E giù Lentamente Fuori l'aria E prendo l'aria E su Fuori l'aria Grande arco Grande 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 Prendo l'aria E stendo la colonna E ispirando Mi sbilancio indietro Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Ultima volta Prendo E su Fuori Grande arco Grande 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 Prendo l'aria E stendo la colonna Fuori l'aria Mi sbilancio indietro Prendo l'aria E giù Fuori l'aria Ok Molto bene Ora Direi di andare a fare Il nostro bel Handred Ok E Vi ricordo che nell'handred 5 spinte con le braccia verso l'alto Belle vigorose Inaspirando 5 spinte con le braccia verso il basso E ispirando Sono 100 colpi In totale Dunque Se abbiamo problemi di arnia cervicale Lo facciamo con il capo a terra Da qua Inaspiro Espirando Vado a sollevare Una gamba dopo l'altra 90 gradi sopra il bacino Ok Le mani Inaspiro Espirando Le mani scivolano verso la fine del tappetino Le spalle si sollevano Da terra Sguardo verso l'ombelico Il tratto lombare appena appoggiato a terra Ora Inaspiro Stendo le gambe verso il soffitto Espirando Vado a cercare il punto di sfida Cioè il punto in cui riesco ancora a mantenere il tratto lombare attaccato a terra E da qui E da qui vado 5 spinte verso l'alto Inaspiro 1 1 2 3 4 5 Giù Fuori l'alto 2 3 4 5 Su 2 3 4 5 Giù 2 3 4 5 Su 2 3 4 5 Giù 2 3 4 5 Mi fermo Prendo l'aria Piego le gambe Fuori l'aria e salto la colonna Prendo l'aria Giù la gamba destra E giù la gamba sinistra Ok ragazzi Ora Direi di andare a fare un bel criss cross Tanto per gradire Quindi Mani intrecciate dietro la nuca Gomiti leggermente sollevati Tanto per osservarvi con la cosa dell'occhio Chi ha problemi di arnia cervicale Parta da terra Invece che partire già in sospensione con il capo Quindi Prendo l'aria Espirando sollevo una gamba dopo l'altra 90 gradi sotto il bacino Manteniamo lo spazio sotto la zona lombare Molto molto stretto Quindi quasi vicino al pavimento Prendo l'aria Espirando Sollevo la nuca alle spalle Sguardo verso l'ombelico nuca lontana dal coccige E da qui inaspiro Tra le scapole e sotto le ascelle Espirando porto la spalla destra verso il giro anche sinistro Allungando il più possibile in avanti la gamba destra Allontanando la nuca dal coccige Torno prendo l'aria E cambio fuori l'aria Torno prendo l'aria Cambio fuori l'aria Torno prendo l'aria Torno prendo l'aria Cambio fuori l'aria Torno prendo l'aria Cambio fuori l'aria Prendo l'aria al centro E cambio e fuori Prendo l'aria al centro 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 Cambio e fuori Prendo l'aria, fuori l'aria a srotolo Prendo l'aria, giù la gamba destra E giù la gamba sinistra Uff Ok ragazzi, dunque, siamo giunti praticamente al termine, quindi come abbiamo iniziato andiamo a concludere, ci mettiamo in quadrupedia, mani a terra, da qui prendo l'aria e espirando, spingo sulle mani, spingo sui piedi e vado a distendere la nostra colonna, spingiamo i taloni verso il soffitto, spingiamo il sederino verso il soffitto, benissimo, da qua. Prendo l'aria e espirando senza dondolare con il bacino porto le mani verso i piedi, mi faccio un po' più avanti se no Instagram non mi vede, prendo l'aria, sbilanciamo un po' il peso del nostro corpo sulla parte anteriore dei piedi, prendo l'aria ed espirando lentamente srotolo una vertebra dopo l'altra, dal basso verso l'alto della colonna, per ultimo il capo, prendo l'aria, e giù fuori l'aria, giù 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 giù, prendo l'aria, e su fuori l'aria, srotolo srotolo srotolo, su prendo l'aria, e giù fuori l'aria, giù 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 giù, prendo l'aria, e srotolo lentamente, e fuori l'aria. Ok ragazzi, e come vi consueto, il countdown è arrivato, allora, avvilito un attimo i commenti, eccoli qua, come va, come procede, la lezione è al contrario, come l'avete percepita? Più difficile, meno difficile, comunque, contentissimo della vostra partecipazione, dai ragazzi, io cercherò in tutti i modi di garantire, vi ricordo, di garantire le lezioni, come è stato fatto finora, nonostante la ripresa del lavoro in palestra, vi saprò ridire qualcosa di più, in quanto cercherò di darvi proprio in tempo reale, notizie di come si svolge il lavoro in palestra, per la vostra sicurezza, e la sicurezza delle persone a cui volete bene. Sì, oggi alle 5 farò un'altra lezione di Pilates, su Evenfit Live, ok? Ok? Detto ciò, ragazzi, il coronavirus vi ricordo che non è scomparso, la mascherina usiamola, rispettiamo le distanze, non è finito niente, non è finito nulla, anch'io sto notando molta più flessibilità sul mio corpo, grazie a voi ragazzi, grazie a voi che avete fatto riprendere il mio corpo a fare Pilates, grazie per lo stimolo che mi date, veramente, siete preziosissimi. E nulla, io vado a farmi lo shake con la mia banana, le mie proteine e l'acqua, e ci metto anche del ghiaccio, così viene una cosa deliziosissima. Un abbraccio a tutti!